Ciao, io sono Federica, mi sono laureata in Biotecnologie Molecolari Industriali a febbraio del 2019, dopodiché ho avuto un assegno di ricerca con cui ho potuto continuare la mia attività iniziata durante il mio tirocinio magistrale e sono molto soddisfatta di questo percorso di studi perché mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze ma mi ha anche aperto le porte dal punto di vista lavorativo, per cui sono molto molto soddisfatta.